Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni e come sempre vi invito a dare un occhio al mio sito www.gurtside.com dove potete trovare oltre a circa un centinaio di lezioni gratuite anche tutti i miei libri in super offerta, tutti i miei corsi eccetera eccetera. Torno al capitolo Modern Electric Bass di Jaco insieme a Jerry Jemot che è anche il capitolo delle mie lezioni che sta riscuotendo più successo tra virgolette, quindi Jaco è sempre una fonte incredibile di ispirazione per chiunque a me fa piacere parlarne, fa piacere approfondire sempre questo mito, questo personaggio al di fuori di ogni comprensione e al di fuori di ogni... sopra qualsiasi diverso di tutto quel che riguarda la musica non c'è parole per definire Jaco, diciamo così. Comunque possiamo prendere spunto e questo Modern Electric Bass è un ottimo, diciamo, testamento che ci ha lasciato e dal quale possiamo cercare di capire i suoi ragionamenti musicali e soprattutto prendere spunti. Quindi capitolo 5 di questo argomento è l'esercizio che mostra Jerry al minuto 12 del video Quando mi sembra che io continui a parlare, come se avete visto la lezione precedente di questo argomento delle sue viteggiature, posizioni, eccetera, delle scale, mi sembra che parli ancora di quell'argomento e le mostra la scala maggiore di C, B, C, F, B, C, C in intervalli consecutivi di terzi quindi do, mi, terza, fa, terza, mi, so, eccetera, eccetera e lo fa con la sua posizione appunto che faceva vedere a Gerdi che avevo mostrato nella lezione precedente e che come sapete le scale possiamo fare è una cosa fondamentale, studiarle non in un'unica posizione, un'unica diteggiatura ma almeno, come consiglio sempre, in tre quella che usa in questo esercizio è quella che io chiamo posizione del primo dito dito in indice perché inizia la scala con questo dito ma io valendo potrei suonarla partendo dal mignolo pure dal medio eppure mixarle, come dico sempre quindi andando magari ascendente in un modo e tornare in un altro eccetera eccetera allora vediamo l'esercizio quindi completo lentamente prima quindi arrivo alla quinta quindi all'ottava sferevole al sol e torna indietro con la scala diciamo lineare quindi più o meno a velocità dell'esercizio del video allora quali sono gli spunti che ci può dare questo esercizio? innanzitutto come ho detto di studiare la scala con varie viteggiature quindi trovarsi poi le proprie preferite e soprattutto avere una padronanza soprattutto nell'improvvisazione quando facciamo dei fill una padronanza incredibile del nostro strumento della tastiera la conoscenza di tutte le scale in tutta l'estensione del nostro strumento quindi non limitarsi ai primi tasti ma suonarli anche in orizzontale quindi ad esempio tutte su una corda eccetera eccetera altro spunto quello di studiare scale arpeggi scale pentatoniche tutto a intervalli quindi lui ha fatto vedere le terze in questa occasione e rimanendo sulle terze ad esempio posso farle invece che ascendenti quindi posso farle tutte discendenti quindi partire dalla terza mi do fare solo mi oppure una scendente una discendente oppure ovviamente cambiando tonalità cambiando anche qui diteggiature e ci può dare spunto anche per fare altri tipi di intervalli ad esempio le quarte quindi rimaniamo un do do fa del sol mi da eccetera eccetera anche qui posso farle ascendenti mixarle eccetera eccetera le quinte do sol eccetera 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 quindi come vedete come sempre un solo esercizio ci può dare poi diciamo il via per farne altre centinaia diversi quindi vi potete come sempre sbizzarrire inventare i vostri che è sempre la cosa migliore più pagate e se trovate queste lezioni interessanti come sempre fatemi l'unico favore che chiedo di mettere un mi piace o condividere ancora meglio e lasciarmi un commento sotto con richieste anche di altri tipi di lezioni cover tutorial armonia tutto e io poi piano piano almeno mi baso a seconda delle vostre richieste per le prossime lezioni corsi e quant'altro per oggi è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima puntata di questo bellissimo capitolo lo andremo poi nel clou della video intervista a Giacomo e vi aspetto quindi al prossimo video a Giacomo a Giacomo